Grazie a tutti per essere venuti, è una giornata importante per Bologna, per la pallavolo di Bologna e speriamo che lo sia per la pallavolo non di oggi ma anche quella del futuro. Mi pare che ci siano tutte le condizioni, siamo qua riuniti per valutare insieme questo progetto, non lo valutiamo quando parte, lo valuteremo sicuramente fra qualche tempo quando vedremo quali saranno i risultati di questa proficua collaborazione. La chiamo così perché così deve essere, così mi è stata presentata, così mi piace rappresentarla. Una collaborazione tra società di Bologna che tracciano un po' il percorso della pallavolo bolognese, di Bologna città e della provincia perché non scordiamoci che il nostro sport non è solo quello della città, del capoluogo ma anche lo sport dell'intera provincia. Mi pare che i disegni e i nomi che avete trovato, che leggete qua dietro e che conoscete tracciano un po' il percorso di questa pallavolo che si vuole disegnare, forse in una maniera diversa rispetto a quella che è stata la pallavolo di adesso. Mi piace sottolineare un fatto che l'accordo tra questi signori che sono seduti accanto a me riguarda non una squadra di vertice, non una squadra di più alto livello sportivo agonistico in questo momento, ma riguarda un accordo di collaborazione fatto di quelle ragazze che sono per alcuni alle spalle e per qualcuno davanti che vedete là in fondo e che hanno fatto parte, fanno parte di quel gruppo di atleti, adesso loro si tapperanno le orecchie ma lo devono fare, di prospettiva per la pallavolo di Bologna. Per loro se le hanno tenute aperte è uno stimolo in più per sapere non che responsabilità ma che importanza ha quello che loro vanno a fare e l'impegno che hanno assunto non solo nei confronti delle rispettive società ma del movimento della pallavolo di Bologna. È troppo gravosa, è troppo pesante, vedo le ragazze titubanti, non lo so, forse preoccupate ma spero stimolate da questi auspici, spero che non rimangano auspici ma che dopo nella realtà diano i frutti. C'è un lavoro, un lavoro da fare che è quello prima, quel lavoro in parte è stato fatto dietro questo tavolo per mettere insieme tutte queste persone e quanti altri hanno collaborato perché loro sono la punta dell'iceberg delle rispettive società, sono i rappresentanti delle rispettive società ma dietro hanno gruppi di lavoro che non è che nascono adesso, nascono da anni ma non lo dobbiamo raccontare a nessuno perché li conosciamo, le realtà di queste società. Io personalmente siamo nella sede istituzionale della pallavolo ma soprattutto del CONI, questo luogo qua è il simbolo dell'attività sportiva della città e della nazione, questa è una rappresentanza periferica territoriale del CONI centrale. I locali sono occupati dalle diverse federazioni sportive, noi occupiamo col Comitato regionale una fetta di questo locale, siamo su al secondo piano e ci piaceva quando siamo incontrati informalmente qualche mese fa, non tanto mese fa, un mesetto fa circa, più o meno, la volontà era quello di dargli proprio una veste a questa giornata di ufficialità nella sede più opportuna, proprio perché era una sede dello sport, non delle società, non di qualcuno, dello sport del CONI, della federazione e di chi questo sport nella fattispecie della pallavolo la vive quotidianamente, l'ha vissuto e vuole e confida che possa crescere. Insieme con me c'è il nostro consigliere del Comitato provinciale, io rappresento qua il Comitato provinciale, c'è Andrea Cappelletti che più da vicino ha seguito magari il percorso delle società e che è stato vicino appunto alla realizzazione di questo progetto. Noi non sposiamo una causa dell'uno, dell'altro, di queste società a discapito di altri, però questo progetto ci interessa, ci piace e speriamo che raggiunga quei frutti che sono negli auspici di ognuno di loro. Io a questo punto mi fermerei perché la parola passa poi a chi sul campo ha realizzato questo e che potrà intervenire nelle forme che penserà più opportune per darci qualche informazione in più. Non so quanti nella stampa sono presenti ma sicuramente questo momento troverà diffusione attraverso altri veicoli che possono essere quelli del comunicato stampa, delle immagini che la Laura ci aiuta a riprendere, a Laura Tommasini che ci accompagna in tutti i percorsi della pallavolo da qualche anno a questa parte, siamo diventati adulti con questo impegno per la pallavolo e il suo impegno nell'ambito del nostro sport è sempre stato molto alto, con tutto quello che ha prodotto nel corso degli anni e con questo marchio che ci ha accompagnato nel corso degli anni e che si ripete nelle diverse televisioni che abbiamo sperimentato nel corso del tempo. Adesso ci prepariamo alla prospettiva del prossimo anno anche dal punto di vista della comunicazione e questo è un momento di comunicazione perché ricordiamoci, queste persone che sono con me al tavolo sono sempre stati bravi di fare attività e col tempo sono cresciuti anche dal punto di vista della comunicazione, ho apprezzato molto la volontà di comunicare quello che avviene nei tempi giusti secondo me perché siamo all'inizio dell'attività, era troppo presto farlo prima e sarebbe stato in ritardo rispetto all'attività portarla avanti. E' un modo per comunicare, comunichiamo la pallavolo anche attraverso questi momenti. Grazie a tutti per l'attenzione. A chi passiamo la parola? Due parole qualcuno le dovrà pur dire, passiamo la parola a Baldini. Grazie Baldini e Alessandro, Polisportiva Pontevecchio, Bologna. Sottolinea, sì, sottolinea, certo, ma proprio da qua vorrei partire per il coinvolgimento delle società, in realtà ci siamo chiamati, vedete il logo Volley Team Bologna, ma abbiamo con noi Castelmaggiore e Imola. Nel logo ci sono le due torri e non siamo riusciti a Castelmaggiore, ormai lo conosciamo, è città metropolitana. Mentre abbiamo voluto dare un segnale a Imola perché è una realtà che anche Giorgio Gambi aveva già segnato. Lo conoscerò sempre, ma tanto non scappavo, perché tra Bologna è arrivato. Sì, ma sì, sarei arrivato, sono un tantino emozionato, perdonate. Abbiamo voluto nel logo riconoscere Imola perché anche a livello federale Imola ha un distaccamento della FIPAV provinciale, quindi è una realtà che è giusto mettere in evidenza e tra l'altro ci ha fatto anche molto piacere in tutto questo progetto che Imola entrasse per dare veramente un aspetto territoriale un po' più elevato. L'anno scorso nell'Under 14 eravamo tre società, che ci siamo giocati il titolo provinciale, idea volley e progresso, quindi esisteva già una collaborazione tra società ridotta, la Ponte Vecchio con Uzzano e Imola, il terzo gruppo con cui ci siamo giocati le finali. È vero che c'era anche San Lazaro VIP che voi vedete che qui non c'è perché non ha aderito al progetto semplicemente. e nel predisporre la stagione successiva, cioè questa, volevamo rinforzarci un po' tutti e quindi abbiamo cominciato un po' di consultazioni così. Tra l'altro ci siamo accorti che la rappresentativa provinciale Under 14 era composta dalle nostre ragazze, le nostre Ponte Vecchio Uzzano, io ormai le chiamo le nostre, Idea Volle e Progresso e Imola. A quel punto, vabbè, magari ci siamo anche un pelino confrontati, noi volevamo rinforzarsi, loro rinforzarsi, alla fine anche da un pochino dalla delusione dello scioglimento del progetto di Serie 1 a 2 e che qua a Bologna è stato un periodo che stava nascendo e abbiamo detto, vabbè, proviamo invece di farlo a livello giovanile. Cioè a livello giovanile proviamo a costruire un'entità che possa rappresentare Bologna, senza fare nuove società, senza fare consorsi, eccetera. Proviamo a metterci d'accordo, beh, insomma, siamo riusciti a mettere da parte un po' in campalinismi quelli soliti, quelli che vedono Ponte Vecchio contro Progresso, contro CLAI, contro Idea Volle e viceversa e siamo riusciti a trovare un accordo per arrivare a far partire questo progetto. Abbiamo lavorato in luglio, in agosto, quindi qualche dettaglio non è riuscito bene, però ci siamo arrivati e le ragazze mi sembra che abbiano risposto bene, i genitori faranno grandissimi sacrifici, lo sappiamo, li stiamo facendo anche noi, però l'entusiasmo è tanto, il progetto sta partendo e questo è il primo passo di questo progetto. Ovvio che un progetto di questo genere, permettetemi di dirlo, è anche uno sforzo economico che le società hanno intenzione di fare e abbiamo già stilato una pianificazione, un preventivo dei costi, abbiamo già cercato i primi sponsor e qui abbiamo già i rappresentanti dei primi sponsor che sono venuti gentilmente a presenziare in questa conferenza. Adesso magari affronteremo meglio anche questo argomento, quindi credo che lo sforzo che stiamo facendo per arrivare a compimento di questo progetto, che durerà due anni, noi vorremmo durasse due anni, perché? Perché la categoria giovanile a cui parteciperanno è l'Under 16 e quindi l'Under 16 dura due anni per regolamento e quindi quest'anno sarà il primo anno, quello di approccio alla categoria che sarà regionale e l'anno prossimo vedremo se le ragazze, se saremo bravi a far crescere le ragazze tecnicamente per arrivare magari ad obiettivi nazionali. Le ragazze oltre che l'Under 16 regionale parteciperanno anche al campionato regionale di Serie D che servirà a supporto della crescita delle ragazze. questo progetto è nato in realtà da tre gruppi, tre gruppi di ragazze che in totale facevano 26 atlete, 26 atlete ovviamente erano troppe per una squadra, allora abbiamo voluto tutelare le ragazze che non erano state inclusi nel gruppo che qua vedete, in maniera che potessero continuare un percorso alternativo per evitare l'abbandono che a volte può nascere dalle selezioni. Avendo 26 ragazze, 14 sono state selezionate per questo gruppo, le altre 12 le abbiamo unite nel team volley, questo si chiama team volley rosso, le abbiamo unite insieme nel team volley blu e credo che sia già la prima vittoria di questo progetto perché non abbiamo avuto nessun abbandono da una selezione che non è un risultato da poco almeno riteniamo. Abbiamo avuto dei riscontri positivi, queste ragazze faranno ovviamente categorie provinciali, però potrebbe essere considerato il vivaio per questa squadra. Quindi probabilmente ci saranno alcune ragazze che giocando in categorie un pochino più abbordabili per loro possano crescere e fare il salto di categorie all'anno prossimo. quindi il progetto non è solo questo che vedete ma ha anche una seconda squadra che abbiamo voluto tutelare. Cosa posso dire ancora? Ci sono domande magari perché ne ho parlato parecchio, poi vorrei anche lasciare la parola a voi perché la darei a Imola volentieri perché grazie. Grazie, grazie. La prima volta che la CSI CLAI di Imola partecipa a un progetto comune con altri, la società è nata nel 69 però nonostante la vetusta età è la prima volta e è una scommessa che abbiamo raccolto perché anche noi come altre società del territorio bolognese soffriamo delle incursioni di società provenienti da fuori territorio. Allora abbiamo deciso di alzare la sticella della qualità dell'offerta territoriale e in questo modo poter offrire alle famiglie e alle ragazze la possibilità di svilupparsi in loco senza bisogno di andare chissà dove. Quindi la cosa ci ha interessato molto. L'altro aspetto che ci è piaciuto molto è questa pariteticità delle cinque società. Abbiamo un patto tra uomini senza togliere nulla alle donne perché le donne fanno dei patti ancora più feroci, ancora più stringenti, ma abbiamo un patto fra uomini per cui abbiamo un gentleman agreement tra di noi di rispetto reciproco, cosa che fa bene alla Palavolo perché riteniamo che le guerre tra paesi, tra campanili per una ragazza o un ragazzo in più o in meno insomma siano poi molto negative a lungo andare e collaboriamo tra società che hanno storie diverse, provenienze diverse, organizzazioni diverse anche e quindi tutti abbiamo da guadagnarci dall'atleta alla famiglia alla Palavolo del suo complesso. Mi ho finito. Grazie. Accogliamo il microfono e lo giriamo a qualcun altro. No, se l'idea volle e volevamo coinvolgere e capire un po' da loro probabilmente che vengono da un'esperienza, si erano avvicinati al livello più alto, eravamo arrivati lì per raggiungere quella lettera che tanto auspichiamo da tanti anni, poi ci sono stati i cambiamenti, però è stata disponibilissima a trovare una collaborazione di questo tipo e questo mi pare un aspetto estremamente positivo, ma soprattutto come ricordava Barelli adesso è nella lista insieme alle altre, non è sopra, non è sotto, non è in mezzo, non è in evidenza. È una componente essenziale. Volevo sentire Tommaso che cosa ci raccontava. E innanzitutto una premessa, la soddisfazione di questa giornata ci conferma nelle idee che i diavollei ha sempre portato avanti. Come sapete tutti, i diavollei è l'associazione che raduna la palavolo di quattro polisportive della provincia di Bologna. In questo giorno in cui questi principi vengono allargate e riaffermati, per noi è un motivo di grande soddisfazione. Vediamo che piano piano passa il concetto che da soli si va poco avanti. quindi il confronto e la collaborazione di tutte le società che sono qui presenti ci dà una visione di futuro rosea, che compensa gli aspetti economici che tutti abbiamo vissuto in questi anni di risorse sempre più scarse, sia da parte dei privati sia da parte degli enti pubblici. Il progetto quindi giovanile, al di là delle ambizioni di categorie superiori che richiederanno presenze e collaborazioni anche a livello amministrativo, contatti che abbiamo già avuto, non ci tarpano le ali per partire dal settore giovanile che è sempre stata la nostra aspirazione principale e confermata dal fatto che tante ragazze adesso militano nei campionati nazionali. Come diceva il Presidente di Imola, dobbiamo fare in modo che allargando le possibilità i talenti del territorio rimangano nel territorio e Bologna possa avere una collocazione che ha sempre meritato, ma che finora non è stata altrettanto evidente a livello nazionale. Quindi voglio ancora sottolineare che da parte nostra, al di là della soddisfazione, ci sarà ogni collaborazione possibile per far sì che questo progetto vada in porto nel migliore dei modi e che sia la premessa per progetti ancora più ampi perché la realtà di Bologna e gli sforzi di noi tutti meritano una prospettiva che sia ancora più ambiziosa. Grazie e auguri a tutti. Grazie a tutti. il Presidente Maggiore che ha già fatto l'esperienza l'anno scorso di collaborazione e si ripropone quest'anno dentro questa collaborazione che mi pare che sia un altro elemento importante per riunire la provincia e la città, ma soprattutto la palla a volo. Buongiorno, sono Musumese, Presidente del Progresso Volley. Come ha detto il Presidente Palladino, noi già l'anno scorso abbiamo messo in atto una collaborazione con Idea Volley, collaborazione che ci ha dato, devo dire, soddisfazione a livello sportivo, a livello anche organizzativo. Abbiamo visto che si può collaborare molto bene con un'altra società e quindi questo progetto che adesso appunto allarga questo tipo di collaborazione ci ha trovato sicuramente favorevole. Anche perché da questo vediamo che bisogna dare, a parte i campionati e le attività che si fanno in quest'anno, ma la prospettiva per queste ragazze è che sono un gruppo di ragazze veramente di qualità, promettente, 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 sono un gruppo di ragazze promettenti, quindi in prospettiva noi vediamo che si può dare uno slancio ulteriore, anzi ulteriore, nuovo, nuovo al pallavolo bolognese. E infatti mi piace il nome che è stato dato a questo raggruppamento, diciamo così, Team Bologna dà finalmente un po' di rilancio alla pallavolo bolognese che purtroppo negli ultimi anni ha subito un po' di calo. Io nello specifico voglio ringraziare l'assessore allo sport del Comune di Castelmaggiore che volse intervenire a questa importante riunione e dopodiché basta, noi siamo contenti di andare avanti in questo progetto e speriamo che i risultati poi siano congrui a quello che noi ci siamo proposti. Grazie. Bene. Ultimo ma non ultimo, finiamo con Gambi. Gambi è un personaggio della storia pallavolistica, forse il più anziano tra questi presidenti come società, non come età, non lo sappiamo, non lo vogliamo sapere, non ci interessa. Perché i capelli bianchi ce li abbiamo tutti e due, ma sono stato anche un suo allenatore quando era uno dei primi, abbiamo contribuito a fare nascere l'attività a Ozzano. Perché con lui? Perché lui ha attraversato tutti questi periodi, le conosce tutte queste collaborazioni, le ha fatte, le ha sperimentate, le ha fatte, le ha disfatte, insomma va bene, c'è, c'è sempre, c'è sempre comune. Voglio dire, è la verità. Facevo, volevo solo richiamare un appunto, la vicinanza alle istituzioni, importante, ricordava molto bene Musumeci prima, la presenza dell'assessore è una presenza importante, vuol dire che le istituzioni sono vicine al movimento, al movimento locale e questa è una rappresentanza che le cinque società rappresentano a loro volta localmente lo stesso la società, questo è importante. Voglio richiamare che è un patrimonio di ognuno dei luoghi, è nello stesso tempo di tutti e la vicinanza alle istituzioni è utilissima perché sappiamo bene che gli impianti sono di proprietà pubblica, sono della pubblica amministrazione, spesso dove si fa attività se non sempre ed è così e questi diventano elementi importanti per poter fare l'attività. Ringrazio anche io l'assessore per la presenza, nell'attesa fra l'altro che venga un altro amministratore perché doveva essere qua con noi anche il sindaco di Ozzano che non è ancora, dovrebbe arrivare, nel frattempo passo la parola a Gambi, vediamo che ci racconta e che sa delle collaborazioni lui. Buongiorno, a proposito di collaborazioni, noi abbiamo sempre creduto nel senso che anni fa, vent'anni fa, trent'anni fa si faceva con la società vicina, quindi noi abbiamo cominciato con il volley Castello, poi dopo siamo stati con il Castenaso, eccetera. Una collaborazione che è durata, una di quelle più importanti è stata con il San Lazaro 5-6 anni e lì abbiamo vinto dei regionali in poco tempo, siamo andati ai nazionali e quindi la collaborazione è un frutto di crescita per tutti. Naturalmente bisogna pensare allo stesso modo, quindi in un certo momento si è interrotta questa collaborazione ma subito all'anno dopo ci siamo sentiti con il Ponte Vecchio e quindi siamo andati avanti con loro. Quest'anno c'è stata la possibilità di un allargamento e siamo ben contenti. Naturalmente abbiamo questi due anni che ci appuntiamo su questa squadra, poi vedremo se anche in futuro ci potranno essere delle altre squadre, non so se potrà fare l'Under 16 l'anno prossimo, non si potrà fare, ci guarderemo a, non dico a fine stagione ma qua a marzo, anche altre società, sì sì perché è una cosa, Tim Bologna è aperto, c'è la provincia, ecco è aperto, è aperto. Magari l'anno prossimo, loro sono 2002, magari quei due anni prossimo. Sì, chiedo scusa se interrompo Gambi. Non è stato parlato senza il microfono. No ma... No no, entra dentro perché il microfono è dentro la rarrazione. E l'ho ripreso. Scusate se interrompo Giorgio, ma una cosa che ci era sfuggita un po' a tutti è che quest'anno noi abbiamo realizzato questo, diciamo che siamo riusciti a concretizzare questo progetto con i 2002, con le ragazze nate nel 2002. L'anno prossimo potrebbe essere e nascere un progetto analogo per le ragazze nate nel 2003 e così via. Ma non è detto che nel Tim Bologna la Polisportiva Pontevecchio o Osano abbiano ragazze del 2003. Magari ce l'avrà, faccio dei nomi solo per esempio, la Persicetana, magari lì avrà la Polisportiva Masi. Quindi il progetto, se vogliamo tenerlo aperto ad altre società, per l'eccellenza della Palavolo Bolognese, necessita della presenza anche di altre società. L'intenzione è questa. Adesso speriamo che possa andare avanti in questi termini. Abbiamo tutte, direi, come diceva Barelli, di tenere qua a Bologna le ragazze più promettenti che rimangono qui a Bologna. Perché abbiamo tante bolognesi che giocano in Serie A fuori Bologna. Un'altra cosa che volevo dire, passiamo la parola all'allenatrice. Che brava, che brava, che brava a parlare. Intanto io volevo dire una piccola cosa che tra dopo ci troveremo fra tutte le società perché stiamo organizzando una partita, un piccolo torneo amichevole pro-teremotati il 18 settembre. E penso a Castelmaggiore. Gambi l'ha citata e allora bisogna che la facciamo. Allora ci presenterà magari anche le ragazze quando ci racconterà questo. Ciao a tutti, sono Silvia Lorenzini, nominata prima allenatrice di questa squadra. Sono molto orgogliosa, spero di essere all'altezza di tutto questo perché lo sforzo di tutte queste società, io l'ho visto alla primissima riunione, è reale. Cioè è importante, non è solo economico, anche se quella è la cosa più evidente, ma sicuramente è proprio uno sforzo, un passo indietro tutti per farne due o tre tutti insieme. Quindi è una cosa veramente grande, io ho lavorato a Idea Volley qualche anno fa e con Roberto Sabbioni tante volte ci siamo fermati a casa a parlare, dire come sarebbe bello riuscire a fare una cosa di qualità a Bologna. Lavoro da tanti anni a Ozzano, ormai credo che superiamo i dieci, vorrei un riconoscimento, una targa da qualche parte. Ormai comincio a far parte della storia della Palla Volozano e ne sono fiera. Comunque anche con lui abbiamo sempre cercato di lavorare per creare qualcosa che sia produttivo, soprattutto per le atlete, perché alla fine se siamo arrivati poi, una cosa importante, sicuramente è una cosa veramente molto bella, ma se siamo tutti qua è per tutte quelle 14 bimbe lì, perché ci hanno fatto emozionare. Allora vi prometto che non vi farò parlare, però quantomeno il vostro nome lo dovete dire, ce la potete fare, ne sono convinta. Allora cominciate ad alzarvi senza fare troppa confusione, venite qua e dite il vostro nome. Finisco solo col dire che sono delle... venite pure, passate dietro al miso. Finisco solo col dire che lo sforzo ha portato anche ad avere un ottimo staff, nel senso che qua con me adesso verrà Roberto Miselli, che non è solo mio marito ma è anche il secondo allenatore di questa squadra. Oltre a Roberto fisso ci aiuterà Giovanni Santini che adesso non è qua per questioni di lavoro e ho già trovato nel primissimo giorno, cioè ieri che ci siamo trovati a Imola, la massima collaborazione da parte di diversi ragazzi di Imola che hanno voglia di vedere, che chiedono, che sono curiosi, quindi questa cosa sicuramente servirà alle atlete, sicuramente serve alle società, ma perché no? Magari serve anche agli allenatori che spesso possono avere un confronto fra di loro e il confronto porta sempre, comunque a una crescita. Oltre alle persone... sì sì, stavo dicendo, sono preparata. Allora, proprio perché sono preparata c'è anche una preparatrice atletica che oggi non c'è, Monica Risaliti, è una ragazza, ragazza si può dire perché ha corso con loro, loro si fermavano e lei continuava a correre, quindi è decisamente una ragazza, almeno fisicamente e metabolicamente, che le sta seguendo nella preparazione e che per tutto l'anno continuerà a lavorare con loro. Allora, intanto ve le presento, nome per nome, passate e potete tornare di là. Lei faceva parte dell'idea Progresso l'anno scorso? Alice Verde. Lei invece era del Ponte Ozzano, Sara Venturi. Anche lei dell'idea Volley Progresso? Michela Trenti. Ponte Ozzano, Alessandra Gobbi. Ponte Ozzano, Benedetta Liffarini. Idea Volley Progresso? Camilla Malossi. Ponte Ozzano, Sofia Tajani. Attenzione, lei è un mito, lei si chiama Sofia, ha una sfortuna che c'è un'altra Sofia, come avete sentito, quindi adesso si chiama Mini e ha accettato questa cosa, è un mito. Sofia Dalmonte. Clay. Idea Progresso? Elisa Graziani. Clay. Matilde Melandri. Salgo sulla sedia. Idea Progresso? Francesca Roversi. Clay. Vittoria Gerardi. Idea Progresso? Alessia Fornasari. E Ponte Ozzano? Chiara Milani. Allora, insieme a noi abbiamo cercato come società di dare voce nello staff un po' a tutte le società, quindi oltre a Monica che appartiene al Clay, che lavora già col Clay da diverso tempo, ci sarà come direggente accompagnatore, la mamma della Cristina, io dico mamma dell'Alessia Fornasari, si chiama Cristina Cacciari, ecco scusate ma non conoscevo il cognome, che fa parte della Polisportiva Progresso e poi c'è Enrico Lipparini che ci sta fotografando in modo meschino, vabbè Enrico Lipparini che è un dirigente della Ponte Vecchio, quindi insomma stiamo cercando di rappresentare un po' tutte le società. Io auguro a queste bimbe sicuramente di crescere tanto tecnicamente perché veramente se noi cerchiamo di fare questo è per poter dare a voi la possibilità di lavorare al massimo, vedete che c'è tanta gente, non so se avete mai fatto una conferenza stampa, io giuro è la prima volta, quindi insomma se c'è tanta attenzione si vede che c'è anche tanta attesa, ma ci deve essere tanto lavoro, non deve essere una cosa, come diceva Palladino, non deve essere una cosa solo di responsabilità e di angoscia, ma di responsabilità e orgoglio, quindi rappresentiamo Bologna, la rappresentiamo in regione perché facciamo solo campionati regionali, però mi raccomando lavorate tanto, io ce la metterò tutta, voi lo so, ce la state già mettendo tutta, l'ho già visto e continuate così per tutto l'anno e sicuramente alla fine del primo anno si tireranno le somme e comunque un buon lavoro sicuramente sarà fatto, poi per l'anno successivo chiedono risultati ed è giusto che li chiedano e quindi noi proveremo a darglieli. Divertendoci, sono pronti, ha depositato subito. Posso andare? Sì, volevo dire. Ecco, bravo, bravo. Sì, me lo sono scordata perché stavo chiamando, hai ragione. Verissimo, allora, assolutamente, l'abbiamo pensata bene, nel senso che siamo coadiuvati da uno staff tecnico anche per tutto quello che è il confronto, come dicevo, qui adesso c'è Andrea Bollini che è il direttore tecnico della Palla Volozzano, col quale ho già collaborato da diversi anni e che conosco molto bene, ma a disposizione c'è anche Luca Alberti per Idea Volley, c'è Manuel Turrini per Clai, Luca Gubellini per Pontevecchio e non escludo che magari anche Martinelli possa, so che Martinelli è molto legato, chiaramente, alla sua, è stato assolutamente, ci siamo anche sentiti, ha sempre spinto quest'estate, diceva dai provateci, quindi lui ci credeva tantissimo, spero vivamente che anche lui possa, adesso non ho avuto occasione di parlare, quindi non voglio spendere parole che poi non esistano. Comunque quando vuole sarà sempre ben accetto, il confronto con Alessandra è sempre piacevole, quindi abbiamo anche tutti i direttori tecnici delle varie società che sono a disposizione per me e Roberto per cercare di fare il lavoro migliore e soprattutto anche per fare delle valutazioni sul lavoro che facciamo e avere delle indicazioni in più, che non mancano mai e non bastano mai. Abbiamo un po' visto gli aspetti tecnici e organizzativi, mi pare che ci sono tutte le componenti, ma per realizzare un progetto occorrono anche le risorse per poterlo fare, che sono quelle che ognuno di loro, ognuna delle società ha messo in campo, ma vedo anche che hanno chi gli aiuta, leggevo poco fa proprio nel roll up che conteneva le indicazioni sull'attività, la vicinanza anche di sponsor e mi farebbe piacere cogliere anche, se c'è qualcuno presente che io non conosco, quindi probabilmente forse Baldini può indirizzarli meglio, sentire da loro, cogliere da loro qual è l'impressione della giornata e cosa li ha spinto a avvicinarsi a un progetto di questo tipo. Sono tre gli sponsor, li voglio ringraziare perché durante il mese di agosto eravamo tutti in vacanza, quindi o chi era a Bologna è difficile trovare gli accordi, difficile discutere, difficile tutto, però ci siamo riusciti, devo ringraziare chi ci ha aiutato anche a tenere le fila dei rapporti, comunque il centro dermatologico, l'Enzi Paolo Broccher Assicurazioni e il Circolo Massini hanno aderito a questo progetto durante le vacanze, quindi li ringraziamo in maniera particolare, in maniera particolare perché non è facile, quindi proseguendo la richiesta del Presidente Paladino avremo anche piacere di sentire un piccolo parere, adesso non so se abbiate piacere o no, ho visto due parole, oppure qui abbiamo il rappresentante del Circolo Massini che è storico, nel senso che già l'anno scorso ci aveva aiutato nel progetto Ponte Vecchio Zano, quindi magari ha già, come posso dire, esperienza di campionato. Brevissimo, buongiorno a tutti, io credo ancora di più, noi nel senso proprio a scatola chiusa abbiamo preso questo progetto che adesso sposiamo ancora di più perché la telefonata mi è arrivata ieri sera, avevamo già scritto, questa dimostrazione dell'affetto che abbiamo nei confronti del progetto, no in realtà è vero, nel senso che già l'anno scorso appunto abbiamo cercato di appoggiare questa idea per varie motivazioni, ma in particolare perché comunque nel territorio, il Circolo Massini è una realtà nella zona di Ponte Vecchio ma per fortuna è diventata una realtà anche della città perché è un punto di riferimento, quindi ci faceva piacere aiutare queste ragazze perché sicuramente è un messaggio positivo che sposa anche la nostra idea. Alcune delle bambine di queste, bambine? Sono cresciute al Circolo Massini, una in particolare, vabbè non facciamo nomi se non però le abbiamo visto crescere e questo credo sia per loro soprattutto perché ripeto da un punto di vista sportivo interessante però per noi più umano, per loro sia la crescita più importante, quindi se li accompagniamo positivamente, uniti e quindi gli dimostriamo che anche i grandi riescono a stare insieme, penso che per loro sia la cosa più importante. Va bene, direi che il Circolo Massini come rappresentante dei nostri sponsor sia stato chiaro. Bene, a questo punto se non direi che passerei per la chiusura, di nuovo la parola. Mi pare che tutte le condizioni le abbiamo viste, le abbiamo verificate in questa giornata, tutto quello che contribuisce a far sì che questo gruppo possa avere grandi aspettative per la Palavolo di Bologna. Non è un carico di lavoro per nessuno, non ci si deve sentire carichi di questa responsabilità ma bisogna sicuramente avere la determinazione per poter portare avanti un progetto che loro hanno voluto definire nei termini di due anni, non è così secondo me, se il progetto va avanti sicuramente si sono dati uno step breve proprio per avere i tempi di verifica che mi pare ancora più corretto rispetto a avere prospettive di lunga durata senza rendersi conto che durante il percorso possono mutare tante cose. In bene, in male, nulla cambia. Oggi il dato positivo è che siamo qua, che siamo dentro una sede istituzionale per il mondo sportivo, siamo insieme cinque società ma non solo. Quello che hanno sottolineato è che siamo aperti, sono aperti le società ad altre collaborazioni future. Quindi questo è ancora un elemento nuovo in una collaborazione che non vuole riguardare soltanto un gruppo ristretto ma che si apre al mondo della pallavolo. Per le ragazze è un impegno che insieme a quello scolastico bisognerà conciliare nel migliore dei modi perché altrimenti la pallavolo non è sicuramente quella che guarda le nostre prospettive di vita future ma bisogna prendere l'impegno sportivo con la stessa dedizione con il quale si avvicina al mondo della scuola. Questo è un messaggio che penso le ragazze abbiano già dentro, soprattutto so già che avranno degli impegni che li portano anche ad allenarsi probabilmente lontano da casa o lontano da scuola e questo è un impegno in più al quale dovranno fare fronte con la determinazione che le porta e che le porterà a raggiungere i risultati. In bocca al lupo per tutti che sia una stagione felice, che sia soprattutto una stagione dove si sta bene insieme e soprattutto si vuole continuare a stare bene insieme. Grazie ancora a tutti. Grazie a tutti.